Un cordiale saluto ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle notizie dal Veneto. Sono 708 in più i nuovi contagi registrati in Veneto a seguito del coronavirus. Il dato è stato reso noto nel bollettino delle ultime 24 ore della regione. Le vittime sono 31 in più rispetto a ieri, con il totale dei morti che arriva da inizio pandemia a 9.426 vittime. Negli ospedali continua invece il calo dei ricoverati. In area non critica sono attualmente presenti 1538 pazienti. Ne rimangono ricoverati 170 in terapia intensiva. E in vista della scadenza del DPCM in atto, l'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il disegno di legge che vieta gli spostamenti da una regione all'altra, anche per la zona gialla. Lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni. Ha detto al nuovo governo, chiederemo un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo DPCM per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione. E parliamo di questa zona gialla. I numeri sono in calo, ma non devono far abbassare la guardia. La zona gialla ha fatto calare l'attenzione delle persone che magari involontariamente abbassano le difese di protezione contro il Covid. I numeri in discesa, però, non rappresentano il dato finale della pandemia, che invece è ancora in corso e con numerose varianti. L'attenzione deve rimanere alta perché è proprio quando si abbassano le difese che il nemico attacca. Il punto di vista degli esperti e degli amministratori territoriali è concorde su questo. Lunedì scadrà il DPCM in atto e dunque c'è anche attesa per le nuove linee che dovranno essere emanate da Roma. Intanto, a livello territoriale, arrivano delle risposte con ordinanze e misure contenitive. Da ordinanza regionale Veneta ricordiamo che da alcuni giorni è possibile consumare al bar dalle ore 14 ma solo seduti e quando si consuma i tavoli la mascherina va abbassata solo durante il tempo di consumazione. Misure per evitare assembramenti sono state intraprese anche in alcuni comuni. A Padova, ad esempio, la circolazione pedonale in centro storico sarà regolata da flussi a senso unico. Dopo il focolaio di Covid-19 all'ospedale di Rovigo, nel reparto di geriatria, è stato presentato un esposto da parte di una famiglia, un esposto in procura. L'azione è stata portata avanti appunto dalla famiglia di uno dei degenti. Su 34 ricoverati è emerso che in 30 erano positivi e di questi tre pazienti sono deceduti. È anche emerso che erano positivi tre infermieri e due osse che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. Sono in corso indagini sull'esplosione di una bomba carta fatta saltare poco distante dalla casa di Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico. Il fatto è stato registrato qualche notte fa a Vicenza, paese di residenza della Moretti. L'eurodeputata però vive a Bruxelles, dove si è trasferita da quando ha assunto l'incarico. A Martellago ieri sera un incendio ha devastato una carrozzeria. Il fuoco ha distrutto 350 metri di azienda. Sentiamo. Carrozzeria a fuoco ad Olmo di Martellago. Ieri, mercoledì, intorno alle ore 21, è divampato il rogo in via Dosa a Olmo di Martellago, dove le fiamme hanno coinvolto in modo generalizzato la carrozzeria. Il violento incendio ha completamente bruciato tutta la struttura, di circa 350 metri quadrati, con all'interno diverse auto in riparazione, tutto il deposito materiale e magazzino e la copertura del capannone. Le cause dell'incendio, presumibilmente partite da un forno di verniciatura, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato allacremente per domare le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate infatti questa mattina alle ore 4. Sono state salvate le attività adiacenti. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono arrivati nell'immediatezza da Mestre ed in rinforzo da Treviso e Rovigo, con tre autopompe, quattro autobotti, di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro aria e 25 operatori. Restiamo ancora in territorio veneziano. Arrestati due borseggiatori di nazionalità rumena. Gli agenti del commissariato di Mestre, nell'ambito della consueta attività di controllo del territorio, hanno notato questi due soggetti a girarsi con fare sospetto nei pressi di corso del popolo e hanno deciso di seguirli. A un certo punto hanno affiancato una donna e uno di loro, senza che la signora si accorgesse, ha infilato la mano nella tasca della giacca, sfilandole un telefono. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti, bloccandoli in flagranza. A seguito del processo per direttissima, sono stati condannati rispettivamente uno a un anno di reclusione e al divieto di dimora nella regione Veneto, mentre l'altro, già gravato dal foglio di via emesso dal questore di Venezia, è stato condannato a dieci mesi con pena sospesa. E adesso un'importante notizia che arriva dal mondo della sanità veneta, precisamente dall'ospedale di Padova. Parliamo di innovazione. Un paziente di 73 anni è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con il laser. Ascoltate. L'equip medica del laboratorio di emodinamica e cardiologia interventistica dell'azienda ospedale Università di Padova, di cui è responsabile il professor Tarantini, ha eseguito pochi giorni fa un'eccezionale angioplastica coronarica a laser su una lesione coronarica non dilatabile. L'intervento, durato un'ora, ha avuto successo. Si tratta di una metodica estremamente innovativa. La coronaria malata, grazie all'azione del laser che ha vaporizzato in pochi minuti la placca di calcio che la ostroiva, è stata completamente riaperta, permettendo il ristabilimento di un normale flusso di sangue ed evitando così al paziente un intervento chirurgico di bypass coronarico. L'intervento, eseguito su un paziente sveglio di 73 anni, è stato effettuato introducendo nella coronaria malata, attraverso un piccolo foro praticato sull'arteria radiale del polso, la sonda laser collegata a un generatore che una volta messa in azione ha permesso di bombardare con il fascio di luce laser la placca di calcio intrattabile. Il laser utilizzato è un laser cardiovascolare di nuova generazione. E restiamo ancora a Padova, parliamo dell'ex caserma Prandina. La permuta è vicina. Il Comune, già a dicembre, ha definito l'accordo di permuta con il Demanio e ora manca solo l'avvallo dell'Avvocatura di Stato, un doppio traguardo storico che la città insegue da decenni e che finalmente si concretizza. Per finalizzarlo è necessario realizzare alcuni lavori e monitoraggi propedeutici. L'intervento è stato programmato diversi mesi fa e riguarda la zona marginale che è stata utilizzata a parcheggio dalle festività natalizie a oggi e che sarà chiusa dalla settimana prossima. Rimarranno a disposizione utilizzabili i tradizionali posti auto della piazzale centrale. E continuiamo con altre notizie, una notizia davvero molto interessante, una scuola che insegna politica. Sentiamo questa iniziativa arrivata alla quarta edizione. Una scuola di formazione politica per amministratori. È l'iniziativa che si svolge ormai da quattro anni per preparare persone con responsabilità nel settore pubblico e cittadini interessati ad acquisire nuove conoscenze e competenze. Ad alternarsi, come relatori, ci sono uomini delle istituzioni, ma anche professionisti ed esperti di materie giuridiche, contabili ed istituzionali. La scuola raccoglie corsisti da tutto il Veneto ed è organizzata da un'associazione di promozione sociale. Ne parla con noi in un dialogo il direttore Beniamino Boscolo. Perché una scuola sociopolitica? Beh, innanzitutto c'è la necessità per chi fa politica, è interessato o è appassionato di politica, saperne di più. Abbiamo visto nel mondo proprio politico quanto l'incompetenza, l'improvvisarsi può portare dei danni non solo a livello di governo, ma anche a livello locale. E che cosa affronta questa vostra scuola? Quali sono i contenuti delle lezioni? Beh, quest'anno, che è la quarta edizione, quindi è già il quarto anno che la facciamo, abbiamo introdotto otto materie che riguardano in maniera sintetica i social network, la comunicazione, il parlare in pubblico, le campagne elettorali, ma anche le linee guida degli enti comunali, piuttosto che i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo o ancora le materie più tecniche della macchina amministrativa di un comune. E quali sono però i relatori che vengono coinvolti? Beh, la scelta non è stata facile nell'individuarli, nel senso che abbiamo optato per scegliere dei professionisti di settore, dei manager pubblici, piuttosto che dei liberi professionisti che seguono determinate materie come consulenti. Ok, diamo qualche dato, quante persone, da dove vengono questi corsisti? Beh, quest'anno la facciamo interamente online, visto la situazione pandemica che non ci permette di avere libertà di farla in presenza. Quindi online si sono iscritti quest'anno 81 persone, la metà, poco più di metà della provincia di Venezia, il resto Veneti e quindi delle altre province, in particolar modo Verona-Vicenza, qualcuno di Pado ovviamente, poco o niente treviso, nessuno di Belluno e abbiamo sei amici che vengono da fuori regione. Ecco, allora appuntamento anche per i telespettatori di Terecittà per un appuntamento speciale? Certo, abbiamo pensato di fare un Open Day l'8 marzo e quindi per ricevere il link della piattaforma Zoom per collegarsi gratuitamente alla lezione potete contattare Emanuele e quindi partecipare volentieri per vedere com'è fatta, visto che ogni secondo e quarto lunedì per quattro mesi faremo queste otto lezioni e quindi si concluderà il secondo lunedì di maggio e poi a settembre faremo la quinta edizione con nuove materie, nuovi docenti e quindi nuovi contenuti. E noi saremo qua a settembre per incontrarci, grazie. La Guardia di Finanza di Venezia a San Donato di Piave ha intercettato un furgone con targa straniera proveniente dall'est Europa che trasportava in condizioni precarie sei cuccioli di cane. Gli animali tutti di pochi mesi e di razza pastore maltese erano all'interno di uno scatolone nel bagagliaio del mezzo, erano senza cibo, senza acqua e con un scarso ricircolo d'aria. Immediatamente i militari hanno attivato il servizio veterinario dell'Ulse 3 e affidato i cuccioli alle cure dell'ente nazionale protezione animali al fine di effettuare ulteriori approfondimenti e successivamente darli in affido. Nel corso dell'intervento i finanzieri hanno rinvenuto nello stesso mezzo anche vari alimenti, 300 kg di carne priva di documentazione di tracciabilità e 300 litri di bevande alcoliche custodite in bottiglie di plastica senza alcun tipo di etichetta. Il mezzo è stato sequestrato mentre i due conducenti sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Venezia per i reati di maltrattamento e abbandono di animali. A bordo c'erano anche dei passeggeri che sono stati sanzionati in quanto sprovvisti del certificato di negatività al Covid-19. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche. In arrivo un cambiamento, almeno fino a lunedì il Veneto si troverà in posizione intermedia tra una bassa pressione ad est con nucleo tra Europa orientale e Russia e l'alta pressione delle azzorre ad ovest. Arriveranno correnti da nord-est nei bassi strati e da nord-ovest in quota che faranno scendere sensibilmente le temperature con i valori più bassi attesi tra sabato e domenica, quindi il ritorno del freddo. E siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale. Tra pochissimo l'appuntamento è con Italpress, le notizie dall'Italia e dal mondo, mentre alle 20.30 vi ricordo l'appuntamento con il format da sindaco a sindaco. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.